sono marco lanzarone sono docente di tecniche della pubblicità e online advertising nel corso di laurea triennale lunsa in scienze della comunicazione marketing e digital media il nostro corso di laurea vuole approfondire tutti gli aspetti della comunicazione moderna a 360 gradi due i percorsi fra cui scegliere giornalismo relazioni pubbliche e digital media comunicazione d'impresa marketing e digital media settori in cui per competere è fondamentale avere competenze trasversali ma anche grande capacità di interpretare il cambiamento per questo proponiamo un corso integrato che parte da solide basi teoriche per arrivare ad attività specifiche di formazione pratica sul campo un corso in continua evoluzione in continuo aggiornamento sempre orientato al futuro come testimonia alla presenza dei mezzi digitali su entrambi i percorsi gli sbocchi i professionali sono molto diversificati da un lato il mondo del giornalismo le relazioni pubbliche l'editoria multimediale gli uffici stampa dall'altro la comunicazione d'impresa da intendersi sia all'interno di aziende sia in società di consulenza e poi la comunicazione pubblicitaria creatività e pianificazione per arrivare fino alle professioni più moderne attuali e innovative come il social media management il digital writing e il real time marketing